E noi per questo sabato vi diamo la buonanotte, nooo, se volete possiamo trovarci in Cascina, Due Torri, Stezzano uscita ad Almine, si trova lì lì, seguite le indicazioni per il centro commerciale, mi raccomando portate le mascherine se non ce l'avete, prendetele da casa, prendetele in tappaccheria, prendetele dove volete, ma noi ce l'avremo sicuro, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ci troviamo lì, ma sabato prossimo, appuntamento 22.30, sempre sul nostro canale YouTube, alesv. e giorno di tempo vi augurano una buonanotte. 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 Perfetto, darling, you were perfect tonight Darling, you were perfect tonight You were perfect tonight You were perfect tonight